Una notizia sessanzionale che sicuramente scuoterà quelle che sono le coscienze di tanti personaggi che in quasi mezzo secolo si sono posti una domanda, che fine ha fatto Ettore Majorana? Tutti hanno detto di più e di meno, noi vogliamo aggiungere un ulteriore tassello a quello detto. Siamo con Aurelio Pelle, già sindaco di San Luca, il quale tra le sue pubblicazioni ha dato anche alle stampe Cippo 382 alias Ettore Majorana. Di questo volume, ancora fresco d'inchiostro, ne parleremo a lungo in un 60 News, però noi vogliamo essere anche interpreti di questi suoi sentimenti. Che cosa significa Cippo 382? Che cosa possiamo dire di Ettore Majorana? Cippo 382 indica il posto nel camposanto di San Luca dove è stata inumata la salma di Ettore Majorana. Ovviamente non a suo nome, ma a nome del personaggio, diciamo, della persona che lui aveva dettato al comune di Polistana mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata il 10 giugno 1931 e successivamente ratificata il 5 dicembre 1933. In base a che cosa lo dico io? Questa è una mia deduzione perché Majorana, rientrata dalla Germania proprio in quel periodo, a dicembre, da quel momento in poi è scomparso e secondo le sue abitudini, sorgnione e canzonatoria com'era, si isolò, cominciò a provare il look che poi ebbe sempre nel periodo in cui rimase a San Luca, non ininterrottamente perché da certe notazioni che risultano sui registri dell'anagrafe di San Luca stessa, lui dice di avere trascorso tutta la vita, tutta la vita con il nome nuovo, non quella effettiva sua, interamente a San Luca e a Polistana. E allora qual è la deduzione? In quel periodo lui facendo credere di essere matto, respingeva tutta la dichiarazione, tutta la corrispondenza che gli veniva recapitata, scrivendo di proprio pugno, respinta al mittente, perché il destinatario è morto, il destinatario era morto perché lui si riferiva a Ettore Majorana che da quel momento in poi lui ha ritenuto scomparso, morto e quindi diciamo… Diciamo che Ettore Majorana, per chi non lo sapesse, è uno dei personaggi più importanti, è un teorico della fisica all'interno del gruppo di fisici noto come i ragazzi di via Panisperna che operò importanti scoperte riguardanti la fisica nucleare e la meccanica quantistica, si disse che si suicidò, che emigrò in America, in Germania che operò all'interno di grandi gruppi allo studio della bomba atomica, ma in buona sostanza, uscì fuori dall'Italia o sono soltanto diceria queste? Io crederei, io escluderei, escluderei che lui fosse andato all'estero, possa essere andato all'estero, per una serie di ragioni. Intanto dobbiamo dire una cosa, Majorana è sicuramente, con i suoi studi, è quello che ha dato poi vita alla bomba atomica. C'è tutta una serie di numeri, di simboli, perché lui giocava e tant'è che lo stesso Sciascia e poi un suo parente, Stefano Roncoroni, che ultimamente gli ha dedicato due saggi, dicono che occorre decodificare le cose che riguardano la lettera di Majorana. Tant'è che in effetti dal maggio 1930, come nelle sue cose compare, sistematicamente compaiono i numeri 11, 12, 13 e 14, anche attraverso i giri.